tutti lasciando avanti siamo su un gioco lego lego star wars e risveglio della forza diciamo pad questo qua virtuale ok posso muovere che figata è un'astronave sì non sono invece qualcuno sopra qua c'è una testa qua ok è coso io non ho mai visto non ho messo nemmeno un film di star wars però so che lui è bb 8 perché il mio robot perché il mio preferito di robot si vuole una spada laser però come cambia il personaggio anche così voglio che figata una gallina il bene la sua salto ok prendi le monetine che servono e qui devo fare ok a e per interagire ok ho capito cioè no in realtà però che ma devo a serve a interagire questo che di credo serva il mini robottino andiamo 8 lui sarà 8 e basta ma andiamo ritirata il villaggio posso fare mai ecco il capitolo 1 assalto su giacchi che è giacchi luke è scomparso in sua stanza il sinistro primo ordine è sorto dalle ceneri dell'impero con l'obiettivo di distruggere skywalker dell'ultimo dei jerry con il sostegno della della repubblica generale lei la lei la organa guida coraggiosamente non esco a lei va bene ok già ho fatto no non ho già fatto vero c'è vero c'è di per i primati ho fatto gli hanno fatto ancora non giusto ok ho saltato il film non volevo ma l'ho saltato vai crea no serve lui ok perché lui non perché lui non c'è le mani e che è giusto io voglio una sparata però no questo che devo fare qui al centro ok ha capito ok ha fatto vai spacca tutto ah sì è giusto vai crea ma era un robot questo no era qualcosa per un'arma chi sei tu lui è il pollo domestico no vabbè non lo so salta ok andiamo voglio anch'io un'arma ma disgraziati a noi per te io ce l'ho già l'arma ma il fucile ho detto fucile ok ora so come si spara che dove ci va da lui sì ok e adesso adesso lui sì andiamo poi ah è la prima no sì sì una sola arma a testa uno non ha preso uno non ha preso molto molto molte armi ah quanto va forse non si apre in che senso non si apre eh sì che si apre bugiardo ah tu hai anche rampino ok vai 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 no decide di fare questo io voglio fare questo e che ho fatto no vai 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 perché allora quindi faccio l'altro in teoria giusto esatto ho fatto un obiettivo di vi disimparare ciò che ha imparato sto facendo che devo far a piano si tu a girare il lucchetto ha capito così fatto se si è aperto va bene di 6 è un abitante c'è un casino che trovare tutti vogliono un'arma o devono avere un'arma spacca il quadro ai no non lo rompe il quadro no tutti e non arma che coso e poi ok già ho fatto non ha fatto il veloce di però non penso che lo sei che sono ste cose vabbè andiamo assalto il primo ordine che cosa non versare acqua il puzzle senza fare ok il comandante di copertura niente sconfitte collezionista tutti oggetti qua nel livello veloce di tutti i mattoncini l'altro non me lo fa leggere a maledizione lui è capitano pass ma loro sono stormtrooper questo lo so però l'altro non so chi è io ho i lanci la frutta l'assertatore 1 lui qui c'è un casino l'assertatore parte ok no non parte più scherzato mezzo io quel video lo finirei qui niente spoiler che bello il caricamento bellissimo che niente spoiler se volete magari un video su questo gioco uscirà anche domani molti personaggi mattoncino di carbonite o orrei ok ho sempre rei sempre rei o io ho sempre rei ho sempre rei o lei vorrei lor santeca lui tale dove lui o bin mon è un'ottica hack bar luke skywalker o kylo ren sempre kylo ren kylo ren e dart father imperatore palpatine fin 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 f è lui di prima f vabbè lui è sempre lui si poi 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 han solo han solo han solo han solo è lo snap bassani ci becca no ha ferito goff tenente iolo e io lo voglio la mia gesta tu lei la kai kai costella parmi lei la lascia calonia e mato generale maggiore dando aspetta che jj aprams conosco sto qua però non so chi è però l'ho visto ton anche quelli la di sa di sabbia quanti sono i personaggi qua soldato incendio artico incendiario ma che cavolo pilota i robot sono anche le abilità ci siete più alle due di due gli altri non li conosco molto interessante cosa posso fare i personalizzati cosa può fare adesso adesso un attimo meglio delle cose da fare personalizzato l'ultima cosa poi basta però voglio dire cosa può fare e dove posso fare i mattoncini e noi la volevo dire ma andiamo niente beh vabbè io posso fare poi a lampino e gli occhiali ciao